ok vediamo oggi la correzione della verifica su intervalli intorni e limiti allora il primo esercizio fatemelo copiare chiedeva di confermare la seguente scritta farlo qua sotto la cornice interessa chiamolo qua per esempio la dica il primo che ditte se la seguente formazione vera o falsa che si consisteva nel confrontare questa diseguaglianza e quest'altra ora se notate questa espressione è quella che designa un intorno circolare di due che prende il ruolo di x con zero di raggio 1 per prendere loro di data del tipo x meno x con zero in valore assoluto minore di delta e questo fa sì che il insieme delle x che verificano questa diseguaglianza sono quelle comprese tra il centro dell'intervallo meno il raggio e il centro dell'intervallo più il raggio che corrisponde nel nostro caso x e 2 delta e 1 quindi 2 meno 1 che fa 1 e 2 più 1 che fa 3 che sono proprio gli estremi della diseguazione che abbiamo sulla destra quindi la pressione vera e corretta fatemi solo togliere questa pagina che non ci interessa ecco questo togliere ok e quindi questa qui ripeto corrisponde proprio ai due estremi 1 e 3 ok questa la ferme la risposta positiva andava comunque motivata in qualche modo d'accordo mi sembra stata la risposta completa domande sull'esercizio 1 ma si trattava semplicemente di applicare una definizione l'esercizio 2 analogamente serve neanche il ripetere tutto sommato e chiedeva se l'affermazione seguente è vero falsa un intorno di x con 0 qualunque intervallo che contenga x con 0 questa è questa espressione è falsa perché perché manca la c2 intervallo aperto non è indifferente che intervallo sia chiuso aperto intorno di un punto e qualunque intervallo aperto che contenga quel punto quindi così come scritto in generale è falsa diventa corretta se aggiungiamo l'aggettivo aperto perché quella è la corretta definizione ok gli intervalli degli intorni che non sono del tutto aperti sono intorno sinistro intorno a destra ma qui si parla di intorno e basta quindi un intorno di un punto e qualunque intervallo aperto che contenga quel punto ok dopo di che tre avere in due due esemplari limite a limite b si trattava di calcolare di verificare il limite ma andiamo a copiare il testo calcola e verifica cosa significa beh semplicemente al 3 cominciamo con il limite per x che tende a 3 di 3x meno 1 chi per calcolare il limite questa è una funzione lineare del tipo a x più b è sufficiente sostituire al posto di x di 3 gli viene il loro del limite 3 per 3 meno 1 che fa 8 questo è il calcolo del limite per quanto riguarda la verifica era sufficiente impostare la definizione limite cioè la funzione f di x differisce dal limite l per meno di epsilon con epsilon positivo tutte le volte che x approssima x con zero per meno di data con data determinato a partire da epsilon ok quindi qui devo trovare qui il numero che c'è qua dentro ok se no non funziona se non è verificata quindi applichiamo la definizione quindi prendiamo la funzione che è 3x meno 1 togliamo il limite che e 8 in valore assoluto questo deve essere minore di epsilon con epsilon positivo risolviamo questa disequazione viene meno 3x meno 1 meno 8 fa meno 9 minore di epsilon raccogliamo un 3 dividiamo tutto per 3 per avere x dentro l'attività assoluto e viene x meno 3 minore di epsilon terzi che è il nostro delta vedete che questa è proprio nella forma x meno x con zero minore di delta a fatto che delta sia e y terzi e qui a destra del meno c'è 3 proprio come nella disequazione che abbiamo ottenuto quindi il limite è verificato se trattava se smetti di applicare in modo diretto e semplice la definizione il caso b invece limite b era copiare ecco 2 meno un terzo di experience che tende a meno 6 il limite per il che tende a meno 6 di 2 meno un terzo di x anche in questo caso va sostituito il meno 6 a x e otteniamo perché anche in questo caso la funzione del tipo lineare 2 in un terzo scusate per meno 6 i due meni fanno più abbiamo due meno per meno fa più 6 terzi fa 2 il limite 4 andiamo a verificarlo nella stessa modalità di prima quindi prendiamo la funzione 2 meno un terzo x meno 4 minore di epsilon con epsilon positivo e abbiamo meno un terzo x 2 meno 4 fa meno 2 qui abbiamo un coefficiente frazionario e negativo non è un problema moltiplichiamo intanto tutto per 3 per fare in modo che il coefficiente diventi 1 quindi abbiamo meno x meno 6 minore di epsilon di 3 epsilon scusate per moltiplicare a destra e a sinistra dopo di che all'interno del barrio assoluto posso raccogliere il meno e questo meno dentro il valore assoluto non ha alcun effetto perché il valore assoluto di a e di meno a sono esattamente identici hanno comunque un risultato che è positivo non ha importanza il segno di quello che c'è dentro l'effetto è lo stesso quindi posso benissimo toglierlo e qui posso scrivere come qui ho un più qui posso scrivere come x meno meno 6 minore di 3 epsilon ecco che questo diventa il nostro delta e questo è x con 0 che combacia con quello che c'è nella scrittura di limite quindi limite è verificato domande l'unica difficoltà si trattava di manipolare l'espressione quel valore assoluto che poteva presentare agibilicamente qualche problema ma in realtà tenendo presente di questa proprietà la cosa era abbastanza diretta ok poi questo era il mi pare vediamo al 4 nel quattro si trattava di fare delle semplici calcoli due limiti scopriamo anche questo qui questo è il 4 qui nel a si tratta di calcolare il limite per x che tende a 1 x la seconda meno 2 qui una funzione polinomiale che abbiamo visto che è continua su tutta l'asse reale per cui per calcolarlo non pone nessun problema di calcolo basta sostituire x con 0 a x 1 per cui il limite semplicemente è 1 meno 2 cioè meno 1 deve semplicemente sostituire 1 alla x nessun problema idem col caso b il limite per x che tende a 0 di x più 1 fratto 2x meno 1 qui una funzione razionale fratta il numeratore x tende a 0 tende a 0 più 1 cioè a 1 il denominatore tende a meno 1 quindi il limite è 1 fratto meno 1 per gli amici meno 1 e qui non è necessario verificarlo ok e qui mi sembra che qua nessuno ha avuto dei problemi e difficoltà poi l'esercizio 5 eccolo qui questo lo ricopio vediamo di copiare il testo e la figura togliamo qua sotto qui si trattava in realtà di andare a vedere il significato grafico del limite avendo il grafico a disposizione qui nel primo caso si chiedeva quant'è il limite per x che tende a meno 1 da sinistra per a meno 1 è qui da sinistra significa per valori più piccoli di meno 1 cioè quando x approssima meno 1 per valori in difetto ma in questo caso il ramo della funzione che mi interessa è questo e la funzione tende a valori molto grandi col segno positivo cioè va verso l'alto quindi qui ho più infinita la funzione se x tende a meno 1 da sinistra diverge a più infinita analogamente se x tende a meno 1 da destra quindi arrivando da questa parte la funzione che quello che il ramo che mi interessa è questa il grafico della funzione mostra che tende a valori molto grandi ma col segno meno quindi qui diverge a meno infinita semplicemente in 1 il limite sinistro è quello che approccia il numero meno 1 per valori in difetto quindi mi interessa questo ramo della funzione quindi qui ho meno infinito per i motivi analoghi a prima mentre il limite destro è quello che è indicato da questo ramo della funzione quindi qui ho più infinito per come sono strutturati questi limiti significa che questa funzione presenta due asintoti verticali la retta x uguale a meno 1 e la retta x uguale a più 1 le due rette questa retta e questa sono due asintoti verticali quelle due rette tratteggiate ce n'è anche uno orizzontale ma poi non l'abbiamo considerato questo è un assintotorizzontale ok domande poi c'era l'ultimo se non sbaglio questo qui stesso discorso di prima se riesco a copiarlo del tutto ok qui abbiamo il limite 3 ci tende a meno 1 quindi siamo qui da sinistra quindi in questa parte quindi il ramo che mi interessa della funzione è questo a sinistra di meno 1 la funzione diverge a più infinita perché la funzione cresce verso l'alto il tratteggio significa questo continua il limite destro in meno 1 il ramo che mi interessa è questo diverge anche questa a più infinita che si comporta nello stesso modo anche qui diventa molto grande positivamente invece in 0 in questo punto il limite sinistro è dato dal comportamento di questo ramo della funzione che tende come vedete a 0 questo ramo della funzione approccio il valore 0 man mano che tende a 0 da sinistra da destra invece quindi questo è il ramo della funzione che mi interessa la funzione si avvicina al numero qui c'è qua sotto c'è meno 1 anche se c'è il tondino negativo nel vuoto quindi il limite è meno 1 il limite destro di conseguenza dato che in 0 non diverge ma fa un salto qui c'è un unico asintoto verticale un asintoto verticale che è la retta x uguale a meno 1 questa 0 è qua sotto e avete ragione chiedo scusa avevo confuso perché in effetti qui c'è la funzione è uguale a 1 quindi questo valore 1 ok questo è 1 più 1 lo 0 e qua questo è lo 0 e qua c'è uno certo il dato che in 0 non ci sono divergenze ma la funzione al limite finito in 0 non ho asintoti mentre io ho nel nel punto meno 1 dove la funzione diverge domande? no x dipende a delta di 0 di meno 1 però non esiste prego il pallino in bianco si e la funzione attenzione la funzione scusate in 0 vale più 1 ok però il limite sinistro è meno 1 perché questo ramo della funzione vedi che approssimo il valore meno 1 man mano che si tende al valore di 0 da destra da sinistra invece tende al valore di più 1 ok e il valore del limite anche destro non dipende dal fatto che qui il pallino sia pieno o vuoto dipende dal comportamento della funzione in quell'intorno lì cioè in un intorno sinistro di 0 con 0 escluso d'accordo? perché in 1 la funzione ha un comportamento regolare non ha nessuna divergenza mentre in meno 1 si verificano i limiti con comportamento infinito la funzione ha un asintoto verticale nei valori che metto qua sotto al posto di x con 0 che comportano un valore infinito del limite cioè mi spiego meglio se la funzione ha questo comportamento limite per x che tende a x con 0 di f di x vale infinito allora ho un asintoto verticale di equazione x uguale a x con 0 e questo può essere o un limite sia destro che sinistro o un limite solo sinistro o solo destro basta che sia un infinito con qualsiasi segno sia ok in ogni caso ho un asintoto verticale però devo avere una divergenza se il limite è finito l'asintoto non c'è l'asintoto che cos'è? è una retta verticale in questo caso questo è un problema di assintoto verticali al quale il grafico della funzione si avvicina senza mai intersecarla in questo caso invece qui questo comportamento non c'è perché in 0 per esempio la funzione taglia la retta y uguale a 0 e in 0 vale 1 nessun problema non comportamento asintotico e poi vedremo come abbiamo già visto a suo tempo quegli asintoti orizzontali che hanno lo stesso tipo di caratteristica in questo caso invece è x che tende a infinito e il limite è finito in quel caso ho un asintoto orizzontale ok bene se non ci sono altre domande ci possiamo fermare qui grazie a tutti